Un'interessante iniziativa dal tema edificio a emissione zero entro il 2050, le esperienze internazionali e nazionali e il ruolo del territorio in Sicilia. Ecco, ne parliamo con l'architetto Tony Cellura che è stato un po' l'anima di questa iniziativa e di questo progetto. Io, innanzitutto, intervengo nella qualità di segretario regionale di GBC. GBC è un'organizzazione mondiale che è l'abbreviazione di Green Building Council ed è un'organizzazione che ha anche una sede in Italia e una in Sicilia, di cui sono il segretario regionale. GBC è la più prestigiosa fondazione mondiale che dà una cosa che si chiama rating di sostenibilità energetica ambientale ed edifici. Sostanzialmente mette un bollino agli edifici e dice quanto consumano. Tutto questo è doveroso perché questa iniziativa è nell'ambito della settimana mondiale dell'edificio verde e nell'ambito di questa settimana mondiale GBC ha scelto Agrigento come sede rappresentativa di questo evento. E noi oggi parleremo del futuro dell'edilizia. L'edilizia, come siamo abituati oggi, non esisterà più perché sarà un'edilizia molto meccanizzata, molto energeticamente contenuta e la domotica farà la parte importantissima. E tutto questo porterà a far sì che ogni edificio debba consumare tanta energia quanta ne produce. Quando si parla di edifici e energia netta a zero entro il 2050 e nel 2020 c'è una direttiva europea, significa che già a partire dal 2020 chi costruirà nuovi edifici dovrà attenersi a questo standard. Cioè dovrà mettere pannelli fotovoltaici piuttosto che solare termico, piuttosto che vetrate intelligenti, un mix di tecnologie in grado di fare questo. Ma noi siamo pronti alla domanda? Le nostre imprese sono pronte? Io dico no. Bisogna sul territorio promuovere questo standard in quanto diventerà obbligatorio per direttiva europea a partire dal 2020 e per fare questo noi, GBC, che è l'organismo mondiale attraverso la federazione e con gli ordini di cui oggi abbiamo avuto anche una testimonianza di una collaborazione attiva, vogliamo promuovere presso le imprese, nell'ambito, come diceva il segretario generale della Camera, della casa delle imprese, che è la Camera di Commercio, di un processo inevitabile verso cui andiamo. Questo si inserisce all'interno di tutta la programmazione che stiamo facendo all'interno dell'ordine e quindi avere una sensibilità proprio per quanto riguarda l'ambiente e per quanto riguarda gli edifici a costo zero. Da un'indagine che viene fatta il 30% delle emissioni non buone viene derivata dall'edilizia e quindi noi oggi siamo qui per raccontare come poter migliorare i nostri edifici, ma siamo qui anche perché è importante la grande sinergia che si deve creare non solo con gli ordini professionali ma anche con la Camera di Commercio e quindi con le imprese edilizie. È un problema anche derivato da una cultura che deve cambiare e su questo devo dire grazie all'amico e collega Toni Cellura che con il fratello Maurizio Cellura da anni partecipano a questi eventi e da anni sono impegnati nel settore dell'ambiente. Noi siamo qui presenti non solo come ordine degli architetti, tant'è vero che anche il moderatore è l'architetto Angelo Agiglia che è a capo del Dipartimento Ambiente e Innovazione Tecnologica.